E questo è il momento dove bisogna premere sull'acceleratore, la Serie A entra nella rush finale con la Juventus che vuole recitare un ruolo da protagonista. Di fronte una delle squadre più spinsierate del campionato, per lunghi tratti, la grande sorpresa del torneo, una gara da vivere, insieme. Direttore di gara, alla fischietta in bocca, via si parte, un nuovo divertimento con Eppoli-Juventus, la ventisettesima giornata, il campionato di Serie A. Attenzione qui alla pasticcia empolese con la Juventus che parte in velocità con Vlaovic, Vlaovic dentro per Zaccaria, 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 la parata di Vicario. Calcio d'angolo, occasione enorme per la Juventus con Dennis e Zaccaria, vicino al gol del vantaggio. Quadrado dall'altra parte per Ken, può servire le vicino Vlaovic, Ken punta la porta, ancora Moise, Moise ancora largo per Vlaovic, va Dujan, Vlaovic, Vlaovic! Palla fuori di pochissimo, Dujan Vlaovic, si accende la stella serva di poco a lato. Può salire la Juventus, sistema Rabiot per andare a ricevere, in mezzo c'è Ken, Rabiot la palla in mezzo verso Ken! La Juventus è in vantaggio, 32esimo minuto, palla meravigliosa per Moise che la mette in porta, di testa, 1-0! Pairami, eccola qua la sua parabola, colpo di testa, palacca rimane lì, attenzione, Zurkovski! Palla in rete, il pareggio dell'Empoli, ha segnato Zurkovski, 39esimo minuto, 1-1 il fonteggio. Quadrado, quadrado, punto alla porta, va Juan, quadrado, quadrado dentro per Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic! La Juventus è in vantaggio, è una sentenza, Dujan Vlaovic, 47esimo minuto, segna sempre, segna sempre, 2-1! Ha mandato al VAR sia Ismaili che Vicario, gli ha messo in porta il gol del 2-1, 4 è forte, Dujan Vlaovic! Quadrado nuovamente per Morata, si distende molto bene la Juventus, Valvaro, Morata, Morata, Morata dentro per Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic! Vlaovic! Dujan! Vlaovic! È un mostro! 3-1 per la Juve! Schial arbitro, vai Rami con il destro, deviazione, traversa! Traversa dell'Empoli, non è finita, attenzione a Benassi. Palla l'indietro, l'Empoli la rigioca nuovamente per Parisi, Parisi al contro, cross in mezzo, Luperto la va a toccare, attenzione, sinistro! Schiazdia, palla in rete! Il gol dell'Empoli, 3-2 al 76esimo, la rete in diagonale, siglata dall'Avantia, 3-2! L'Empoli ci riprova con la manovra che nuovamente ruota verso sinistra, Parisi, Parisi la mette in mezzo, deviazione! Palla fuori di pochissimo! Vicino al gol ancora l'Avantia! Finisce qui la partita, la Juventus sbanca il Carlo Castellani di Empoli, vince 3-2, una gara molto difficile!